ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale io sono grace oggi proseguiamo la nostra avventura con il 71esimo gameplay di mad max dunque nella puntata precedente siamo andati a liberare la figlia di hope di nome glory in questa zona qua nelle dune ok invece mancavano due rottami da recuperare dobbiamo andare a recuperare adesso la nostra macchina che è stata incappettata dal nostro amico quindi direi un bel viaggio rapido in zona e procediamo con questo rottami di macchina allora siamo appunto anche la nitro andiamo a tentare dritti ma cadavano andiamo un po cos'è che ci dice ok la macchina è lì lui non so eccolo qua no sono venuto per la macchina non perfetto i should kill you for this hail the champ the ruination of stank gum they said the one who thieved my big block and my concubine not to mention the one who ran a saw blade into lord scabris scrotus's very brain bag as if cuttin' dead stump saw your ride followed it here we all followed it here found your monkey and that monkey was made to see e adesso vediamo che che muore oh 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 I'll tell you, his name peels away the first layer of your skin. What are you talking about? What have you done? What have I done? Oh wait. Ok. Wait. No! No! My God! No! 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 I'm sorry! I'm sorry! Eh, so they continue to reach me. Oh my god. Oh my god! Oh my god. Let them die! What do you do? I need to do it! What can I do? What can I do? I need to do it! No... What did he tell you? Lord Scrotus was here Io gli passerai sopra quella macchina, Max. C'è questo, che ho preso da me stesso, per portare a la sua natura. Il mio angelo, il Magnumo era... Tu lo scopi. Lo scopo, non era. Lo scopo, ma cosa potrei fare? Cosa potrei farlo? Cosa potrei farlo? Cosa potrei farlo da me? Cosa potrei portare le tante petrol? Cosa potrei portare qui? Quindi? Quindi, dove potrei farlo? Cosa... Cosa è il mio? Non importa più. Ok. Quindi dobbiamo arrivare fino al tempio di Death Flair, quel cavolo che è. Che sarebbe biografia? Vediamo un po' l'ultimo. Che era questo qua. Altre... Ok. Non può. Novità, la bambina l'abbiamo già visto. Mancano ancora quelli. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Ok ragazzi, il 71esimo episodio di questa serie Mad Max finisce qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. In tal caso, se non siete iscritti iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like, commentate e condividete. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78. Un saluto a tutti.